Nella Serie 1 di Tennis Tauro la Top Spin Messina affronta domani alle 17.30 l'andata della semifinale playoff contro la Puania Carrara, campione d'Italia in carica. E' il punto più alto raggiunto nella propria storia dalla società del presidente Quartuccio, che quest'anno ha già messo in bacheca la Coppa Italia. La sfida con i Toscani sarà preceduta da una serie di iniziative che renderanno l'aggiornato un vero e proprio evento. Tutti insieme per un sogno, lo slogan scelto dalla Top Spin, che spera nel sostegno di una grande cornice di pubblico. Appuntamento quindi alle 17.00 nella palestra della Villa Dante, con ingresso gratuito. Ascoltiamo adesso le interviste con il presidente Giorgio Quartuccio e con l'atleta palermitano Antonino Amato. Ora quello che verrà sarà tutto di guadagnato, non abbiamo nessuna pressione addosso. Noi cercheremo sicuramente di fare bella figura e di impegnare al massimo i campioni d'Italia, sperando di poter fare anche il risultato che ci interessa. Dobbiamo cercare di conquistare una vittoria qua in casa, soprattutto per mettere pressione all'avversario e per far capire agli altri che noi siamo intenzionati di andare in fondo, siamo intenzionati di andare in finale e una vittoria in casa sarebbe molto importante.